Buonasera, ben trovati a Magazine, è una settimana decisiva questa per il paese che si trova di fronte a un difficile percorso per la formazione di un governo che deve dare risposte agli allarmi che provengono dalla società, cofindussi e sindacati dicono in coro fate in fretta, ma questa è una settimana decisiva anche per il Movimento 5 Stelle e per i suoi parlamentari che devono prendere decisioni importanti, stretti come sono tra le urla del loro leader e le sirene della responsabilità che si fanno sentire anche in rete. Insomma è il test del pragmatismo, quello che fa di ogni incendiario un pompiere e noi vi portiamo l'esempio di Parma come vedremo nel seguito di questa puntata. Vi presento i nostri ospiti, in studio con me ci sono la senatrice Laura Puppato, buonasera, ben trovata, grazie per essere venuta, sappiamo che è una giornata difficile e Federico Mello, giornalista, blogger, autore del Lato Oscuro delle Stelle, un libro che analizza il movimento dal punto di vista del suo aspetto fondante che è il web. In collegamento da Parma c'è con noi il capogruppo dei Democratici in Consiglio Comunale, Nicola Dall'Olio, buonasera, ben trovato Nicola. Buonasera, buonasera. Per partire vi faccio vedere che cosa sta accadendo in questi giorni con la prima esperienza di un governo a 5 Stelle a Parma, vediamo. Cambiamo il mondo, poi vediamo. Ecco, forse la consecucio temporum, il vero problema del movimento 5 Stelle, è quel buco grammaticale tra promesse e fatti che manda in soffitta i migliori entusiasmi. Voleva rivoltare l'ordine delle cose partendo da Parma, il primo sindaco 5 Stellato, ma tra le mani aveva una sfida impossibile. 39 anni, un passato da project manager contro un dissesto finanziario da 870 milioni di euro. È l'eterno fascino del Davide contro Golia, l'umanità contro la macchina, che fa vincere Federico Pizzarotti la sua voglia di dare una spallata alla politica. Sono passati 9 mesi dal giorno in cui un cittadino come tanti, animato da buone intenzioni, si è insediato nel comune della Petit Capital, ma oggi la musica è cambiata. Qui a Parma le metafore storiche vanno molto, Beppe Grillo parlava di presa della Bastiglia per indicare il percorso alla volta di Roma partendo dal capoluogo emiliano, ma oggi le cronache riferiscono più che altro di una Vaterlo. E sgonfiate all'euforia arrivano le proteste, quelli che vedete sono i dipendenti del comune che si sono visti tagliare l'indenità del salario fino al 20% della busta paga. C'è bisogno di una svolta, la svolta non sta a non tagliare i salari, questa è una società che ha le potenzialità per dare la crescita al paese e ci bisogna affrontarla in modo diverso, non si può affrontarla a vista tutti i giorni, non sapendo quello che fa la mano destra rispetto a quella che fa la mano sinistra. E viene da dire che la difesa del sindaco Pizzarotti sta tutta in quella che potremmo definire grillismo reale e qui torniamo alla voragine che divide le belle speranze dai conti. È difficile cambiare il mondo quando impera l'austerity con il patto di stabilità da rispettare e un bilancio da risanare. Ed è qui che la luce delle stelle inizia a farsi fioca, soprattutto quando per fare casa si intacca il welfare. È questa la delusione più grande nei confronti di un primo cittadino altrettanto rivoluzionario ma più pacato del suo leader, che al primo test pratico ha semplicemente fallito. Non c'è altro modo per descrivere l'aumento delle rette degli asili nido che porteranno ossigeno per un milione di euro alle casse del comune, oppure, ipotesi più probabile, via i bambini dalle scuole e madre a casa. Perché la domanda è, come si fa a pagare una retta di 1300 euro al mese per mandare due figli al nido? Il sindaco risponde allargando le braccia, come dire, tutto non posso fare. In un bilancio sicuramente difficile mancavano un milione di euro per quanto riguarda le rette. Quindi la scelta era o diminuire i posti per i bambini o aumentare le rette alle fasce più alte, che non sono i ricchi. I ricchi sappiamo che sono altri, ma negli strumenti, nelle possibilità del comune era alzare a quelli che avevano un reddito più alto per non toccare quelli che hanno un reddito più basso, che in questo momento sono ancora più in difficoltà. Queste ISE in realtà riguardano famiglie che, grazie a Dio, hanno due lavori, quindi lavorano entrambi, è una casa di proprietà, ma che non hanno stipendi tali da potersi permettere, ad esempio per chi ha due bimbi al nido, 1300 euro al mese diretta. Quello che ci ha comune è solo il desiderio di protestare tutti insieme contro quello che sta accadendo e soprattutto chiedere il ripristino del quoziente Parma. Questa è una delle prime cose che noi chiediamo, nonché politiche per la famiglia un po' più attente, perché quello che sta accadendo a Parma sembra proprio il contrario. Dulcis in fundo la regina delle promesse mancate, l'inceneritore. Il movimento ci aveva impostato la campagna elettorale sposando la battaglia sul territorio, sul modello della Notav in Val di Susa e del Nogron da Genova, tanto che le bandiere che festeggiavano il nuovo sindaco erano proprio quelle del no all'impianto. Un altro mondo è possibile, dove si fa la raccolta differenziata e bruciare i rifiuti è solo un business, peraltro poco chiaro e dannoso per la salute. Tutto vero, ma la realtà dei fatti cosa dice? L'impianto è partito, seppur in via sperimentale, il sindaco si difende con uno scudo di carta velina. Le battaglie non si fanno per vincerle. Ero contro, rimango contro e sarò sempre contro a una logica di gestione dei rifiuti che non sia virtuosa, che non parta dal dobbiamo cercare di recuperare il più possibile tutta questa materia che inevitabilmente se no andiamo a bruciare e quindi a distruggere. Quindi il fatto di essere contro non vuol dire che il processo che era iniziato nel 2010 come iter di costruzione e come di approvazione dal punto di vista della comune, quindi in ottica centrodestra, della provincia in ottica centrosinistra, quindi tutti d'accordo nel 2005 sono partiti per costruire questo inceneritore. Quindi arrivati noi al 70% della costruzione, come dire, l'impegno c'è, c'è stato e ci sarà sempre perché non è una battaglia persa e comunque queste iniziative non si iniziano pensando solo di vincere. Eccoci tornati in studio. Allora, senatrice Laura Puppato, lei è stata due volte sindaco di Montebelluna a Treviso. È una figura di dialogo. È vero che sta facendo, sta costruendo una sorta di piattaforma per trovare dei punti di incontro per un dialogo con il Movimento 5 Stelle? Sì, sto facendo una piattaforma informativa che con la collaborazione delle liste civiche di Milano e con l'Università di Milano dovrà appunto prevedere questo luogo virtuale in cui poter incontrare da una parte cittadini, imprese e naturalmente tecnici e figure che possono certamente produrre delle buone idee in relazione alle politiche da fare per il Paese e dall'altra dei politici, dei parlamentari, finalmente con uno scambio vero, come credo sia oggi indispensabile, visto che io ribadisco, anche per l'esperienza vissuta, come sia vero che si ha bisogno del contatto anche fisico, mentale, intellettuale con la gente perché da loro arriva continuamente, comunque e sempre nuova linfa, anche di riflessione, anche di, per esempio, di utile, acuto, no? Per uscire dalla logica e magari standard che ti vengono fornite e che non sono le uniche possibili. Quindi questo luogo di riflessione dovrebbe prevedere, nel mio intendimento, che diverse figure di questo Parlamento, tutti coloro che lo vorranno, e certamente io auspico il Movimento 5 Stelle, nonché il Partito Democratico, e naturalmente tutto il gruppo del centro-sinistra e non solo, possano effettivamente, come dire, recuperare utilmente queste informazioni e queste proposte per riuscire a trarne valore aggiunto per la vita politica dal punto di vista legislativo e dal punto di vista programmatico. Se posso dire, mentre ascoltavo questo video, mi sono venute in mente due cose e sono due appunti al Movimento 5 Stelle, mi dispiace farli, ma li devo fare. La prima è che immediatamente, quando ho visto quell'impianto di incenerimento, mi è tornata in mente la mia città. E la sua battaglia anche. Io ho vissuto esattamente la stessa battaglia. Infatti ne volevo chiedere la giustificazione, la difesa di Pizzarotti, non tutte le battaglie si fanno per vincerle e la convince, perché lei invece quella battaglia l'ha vinta. Allora, io mi sono spesa, non ho elementi utili per capire se lui si è speso fino in fondo per vincerla quella battaglia, però dico una cosa che è incontrovertibile. Se noi andiamo a vedere le cose che noi abbiamo dichiarato nel 2002, risultando eletti, noi abbiamo detto faremo il possibile e anche l'impossibile per impedire che questo impianto come dire ottenga, diciamo, il via libera. Presento che c'era una società già costituita, pubblico-privata, una valutazione dell'impatto ambientale a tempo della luce da parte della regione del Vaneto che non vedeva l'ora di farci contenti, avendo avuto un'amministrazione di centro-sinistra per la prima volta nella storia. E poi, come dire, degli obblighi molto precisi rispetto al luogo, quindi ubicazione e società. Bene, siamo riusciti nell'arco di un anno, una battaglia che è stata davvero impressionante dal punto di vista sia legale che personale, insomma, tutta una serie di questioni e oltretutto devo ringraziare ancora gli amministratori che abbiamo delegato all'interno di questa società che hanno davvero condotto in maniera serissima e molto caparbia una battaglia all'interno. Ma devo dire, a distanza di un anno noi avevamo la città che era già partita con la raccolta differenziata più alta d'Italia, oltre i 20.000 abitanti, e abbiamo cancellato la società e l'impianto di incenerimento avendo promesso di fare il possibile. Costoro, a Parma, avevano garantito di non fare l'impianto e gliel'hanno fatto fare. Peraltro quando è servistato il sindaco mi ha detto proprio questa cosa qui, mi ha detto praticamente l'impianto era già, come dire, un accordo e l'ha fatto. No, ma lo si doveva dire perché la correttezza, che io non concepisco si possa continuare così in questo paese, la correttezza vuole che in campagna elettorale si facciano affermazioni e promesse che siano almeno verosimili, non che si mantenga lo 0% di quanto affermato. Ed è vero che nel momento in cui tu hai un margine di dubbio, devi dire, fidati di me e farò il possibile, ma non puoi dire, io ti garantirò che quell'impianto non verrà fatto. Perché quell'impegno di garantire che l'impianto non verrà fatto è un impegno coercitivo per te. A quel punto devi aver già valutato quali sono le opportunità che ti possano portare a una scelta diversa. Altrimenti siamo, come dire, alle promesse ignobili. Alle promesse, diciamo, che già non avevo sentito in età. Ma ignobili, ignobili di campagna elettorale, siamo la Berlusconi su questo. Siamo la Berlusconi. Senatrice, le ha fatto piacere, lei ha ricevuto come comune, come sindaco, la certificazione del primo comune a 5 stelle dal blog di Grillo. Un sindaco grillino, un sindaco di Pindigrillo. No, non è il suo blog all'epoca, io ricordo, lui portava in Italia un spettacolo, si chiamava Reset. Lo aveva iniziato nel mese di febbraio del 2007, me lo ricordo perché era il mio compleanno. Esattamente in quel momento mi è arrivata la sua comunicazione che era stata indicata da lui come primo sindaco a 5 stelle d'Italia per le sue attenzioni alla raccolta differenziata, all'energia, alla mobilità sostenibile, al tema dell'urbanizzazione e quindi del recupero del suolo. Insomma, ecco, tutti i temi che oggi sono, tra l'altro, pane quotidiano e fondamentale importanza per il prossimo governo. All'epoca non era di moda, noi eravamo una delle nove enti locali per Chioto che avevano scelto di produrre su se stessi quella convenzione, la convenzione di Chioto appunto che era stata siglata dall'Italia ma messa nel cassetto. E quindi lui, in maniera molto, credo, molto seria, molto corretta, lui mi ha telefonato, mi ha detto lei è il primo sindaco per cui venga nei miei spettacoli che la premierò e poi lei spiegherà come si fa a diventare un sindaco a 5 stelle. Io ci sono andata naturalmente un paio di volte, dopodiché dovevo fare il sindaco e non anche potessi girare l'Italia con Beppe Grillo a rappresentare. Chi sai invece di Beppe Grillo che cosa avrà detto al sindaco Pizzarotti? Noi andiamo a Parma dove c'è Nicola Dall'Olio, la lista di grattacapi per il sindaco non finisce perché oggi c'è una questione legata alla trasparenza. Insomma, la luna di miele con il sindaco è finita? Non so se è già proprio del tutto finita, volevo aggiungere due cose sull'inceneritore perché per fare un po' anche chiarezza sulla questione. In realtà il sindaco e il Movimento 5 Stelle l'avevano anche messo nelle linee programmatiche di mandato, al di là di prometterlo in campagna elettorale, di fermare l'inceneritore e quando poi hanno visto che non riuscivano hanno iniziato a dire anche che non l'avevano mai detto. In questo hanno adottato immediatamente gli abiti del campione delle smentite che è Berlusconi, cercando anche di dire il contrario di quello che avevano affermato. Poi, come dice Casaleggio e Grillo nel loro libro, non si può mentire ai tempi della rete perché la rete è eterna e tiene memoria di tutto. Infatti si sono trovati video e varie dichiarazioni in cui queste affermazioni venivano dette. Il fatto è che questo inceneritore, come ha detto ma solo a posteriori Pizzarotti, era già di fatto quasi ultimato, quindi era in uno stato molto diverso rispetto alla situazione di Montebelluna e al di là del fatto che si condividano i principi generali di andare a rifiuti zero, di non avere più, di uscire, diciamo, rottamare nel tempo gli inceneritori e cercare di avere il massimo recupero di materia, ma bisogna poi confrontarsi anche con la realtà, con l'eredità del passato e con quello che può fare una pubblica amministrazione, può fare un comune. Quindi questo non è stato raccontato al momento della campagna elettorale. Dall'altro punto di vista ci sono vari altri aspetti che hanno deluso e che possono dare, diciamo, l'idea che la campagna si stia per fermare, la luna di miele. Uno di questi è stato legato, per esempio, a quello che avete citato nel vostro servizio, alle rette per gli asili e per le scuole materne. Ecco, Nicola, si poteva fare qualcos'altro, nel senso il sindaco quando l'ho intervistato mi ha detto io con questo bilancio da risanare, col patto di stabilità da mantenere, non volendolo sforare, non avevo altra scelta che o tagliavo i posti negli asili nido oppure aumentavo le rette. Al che io gli ho chiesto, scusi, ma insomma, da madre come si fa a mandare due bambini all'asilo nido e pagare 1300 euro al mese per redditi, parliamo di redditi medi. E lui mi ha detto che tutto non si può fare. No, si poteva fare. Noi abbiamo anche presentato delle proposte quando si è discusso il bilancio, degli emendamenti al bilancio, perché in realtà abbiamo una situazione. Di fatto l'amministrazione comunale sta proseguendo le scelte del commissario. Sapete che dopo la giunta PDL è stata poi commissariata, quindi c'è stato un periodo commissariale in cui sono stati portati ai massimi i tributi, l'IMU, l'addizionale IRPEF, sono stati tagliati qualsiasi tipo di investimento, fermati anche altri mutui. Di fatto con l'IMU si è avuto un gettito tributario altissimo e si sta operando, facendo dei grossi accantonamenti che devono servire a affrontare evidentemente dei debiti pregressi e anche debiti fuori bilancio, ma in realtà queste cifre di accantonamento possono essere sicuramente modulate. Il problema è che viene usata la difficoltà di bilancio che sicuramente esiste come una giustificazione per non fare poi delle scelte politiche, perché è quello che deve fare. Le risorse sono scarse, l'economia serve a destinare a fini diverse risorse scarse. In questo caso c'è una gestione commissariale, il vero sindaco, un sindaco tecnico che è l'assessore al bilancio, che è sicuramente una persona competente ma non ha nessun feedback politico da parte della giunta, che in particolare dal sindaco, che commette continuamente degli errori salvo poi tornare indietro, tant'è che sulla questione delle rette adesso non hanno accettato le nostre proposte in sede di approvazione del bilancio, ma stanno cercando di trovare qualche soluzione alternativa, qualche aggiustamento a posteriori, perché adesso ci sarà l'avanzo di bilancio e pare che questo avanzo, visto che non si è speso niente nel 2012, sia di svariate decine di milioni di Euro. Tutte cose che si sapevano prima, quindi senza entrare nel tecnico, è semplicemente quello è stato un errore politico, così come è stato un errore politico anche quello sui dipendenti comunali, di anche incapacità di confrontarsi, di fare ascolto e a differenza di quello che dicono anche di fare partecipazione, ascoltando anche le rappresentanze, i corpi intermedi, tutte le figure che ti possono dire come stanno le cose. Sempre si va alla rottura, allo scontro, a scelte unilaterali, salvo poi quando monta la protesta cercare di trovare dei rimedi che ovviamente hanno poi costi sociali e economici molto superiori a quelli che si potevano fare prima. Nicola, dopo torniamo da lei, io vorrei dare la parola a Federico Mello, il quale ha analizzato il movimento dal punto di vista del web e della rete, la sua parte fondamentale, però adesso il movimento pare soffrire di una sindrome d'accerchiamento, Grillo parla di accusa la rete che fin qui ha esaltato moltissimo, dice che ci sarebbero dei plotoni di persone dedicate che tutto il giorno stanno lì a svalutarlo, screditarlo, è possibile questo? Mi sembra plausibile, ma se così fosse sicuramente Beppe Grillo si trova ora vittima di tecniche e metodi di guerra sporca su internet che lui e la Casaleggio utilizzano da anni, anzi sono stati proprio gli antisignani in Italia nell'utilizzo di questi mezzi probabilmente anche legali, ma sicuramente scorretti per un partito o un movimento che almeno mette nel suo statuto l'idea generale di abbattere la democrazia rappresentativa e consegnare la democrazia nelle mani dei cittadini connessi in rete, perché questo dice il primo articolo del non statuto di Beppe Grillo. Io nel mio libro documento come queste tecniche di infiltrazione, di monitoraggio dei dibattiti online, anche se vogliamo di screditamento di chi la pensa diversamente tra loro, è stato proprio qualcosa di scientifico e di motto professionale fatto dalla Casaleggio Associati che gli ha permesso… Cioè una tecnica che loro hanno usato che adesso in qualche modo gli ritorna come? Beppe Grillo dice adesso che ci sono troll pagati, che sono pagati per criticarlo sul blog, io non so se sono pagati… Lui ha usato altre parole, però… Però colpisce il fatto che Beppe Grillo come in tutto fondamentalmente operi una monimolazione della comunicazione, dicendo delle cose in base alla sua convenienza, quindi fino a poco tempo fa lui afferma di aver fatto un programma in rete perché ha ricevuto dei commenti delle sue proposte, ma poi il programma è rimasto quello proposto da lui. O per esempio l'altro giorno quando lo Spiegel, questo giornale tedesco ha definito Beppe Grillo l'uomo più pericoloso di Europa, lui sul suo blog ha pubblicato un articolo dicendo sì è vero che lo Spiegel dice questo, però i commenti dei lettori di lo Spiegel dicono che invece il Movimento 5 Stelle è una realtà positiva. Quindi anche questa voce della rete, se vogliamo, è utilizzabile per fini propagandistici fondamentalmente, non credo che la rete in quanto tale sia rappresentativa di alcunché, tranne che non vengono date delle regole ben precise, ma quello che finora ci aveva raccontato che i commenti in rete esprime una democrazia maggiore, ora ci dice che in realtà questi sono infiltrabili e manipolabili. Secondo me un po' tutto rientra nelle contraddizioni di Beppe Grillo, anche il caso di Parma ne è un esempio abbastanza preciso, perché cosa ci insegna Parma? Che fondamentalmente lo scontro con la realtà del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo mostra sempre un po' la corda, perché finora Grillo nel suo programma ha tenuto proposte di destra, proposte di sinistra, non ha voluto scontentare nessuno, ha lavorato sul paradosso, sulla battuta, adesso governare è un'altra cosa. Federico Pizzarotti io non ho grandi motivi per criticarlo se non quello già detto dalla senatrice Puppato e l'inceneritore, ricordiamo, nella cosmologia grillina non è qualcosa di secondario, una battaglia fondamentale come quella a Notav, ricordo che a settembre quando Pizzarotti era in carica da due mesi, Grillo ha questa iniziativa proprio a Parma sull'inceneritore che chiamò Viesiren, quindi citando l'azienda che apre l'inceneritore, disse che l'inceneritore non si farà, dovrà passare sul suo corpo indicando Pizzarotti. Però Pizzarotti, almeno da quello che mi raccontano i cittadini di Parma, i colleghi che lavorano a Parma, fondamentalmente sta facendo sul comune qualcosa di simile a quello fatto da Mario Monti lo scorso anno. Sta facendo il tecnico dell'austerity, però anche come diceva il consigliere comunale di Parma, io non penso che la politica è fatta da tecnica, è fatta da scelte politiche appunto, allora il fatto che Pizzarotti non abbia una linea politica chiara rispetto a venire incontro alle fasce più deboli o venire incontro agli imprenditori e faccia un po' come dire, l'amministratore fallimentare di un comune con grossi debiti, dimostra come mancano dei riferimenti valoriari forti nei 5 Stelle, chiaramente l'ambiente è una cosa che interessa, ma a quali centri sociali si rivolgono? Anche questa lotta contro i dipendenti comunali, che tra l'altro in città ha anche il suo consenso, però è un approccio chiaramente di centrodestra, perché era legittimo, ma quest'idea dei dipendenti comunali che non lavorano, che non fanno niente, che quindi se ritogli 200 Euro dall'oggi al domani se lo meritano perché tanto non lavorano, vengono al dunque le contraddizioni del grillismo, che finché era la propaganda e campagna elettorale funzionavano. Ora, qualsiasi cosa che si sono trovati a fare in Parlamento, non ne hanno azzeccata una, ogni cosa concreta o si sono rotti tra di loro, o hanno fatto una gaff, ieri Zaccagnini un deputato ha detto che non hanno presentato proposte di legge perché non hanno personale dell'ufficio legislativo, ma non è un gioco il Parlamento della Repubblica. Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle che devono cambiare il mondo non hanno presentato nessuna proposta di legge, non è possibile, cioè si scontrano poi con il fare, il fare è difficile per loro secondo lei? Io credo che loro scontino obiettivamente una impreparazione alla vita politica, amministrativa, questo potrebbe anche essere, diciamo, ritenersi del tutto normale. Il tema vero è che questo ruolo che loro hanno conquistato, spesso non risultando conosciuti alle persone che li hanno votati, perché non dobbiamo dimenticare che una delle anomalie che ci sono verificate durante questa campagna elettorale è che i cittadini avevano ben presente il leader, ma non conoscevano assolutamente le persone da eleggere e quindi sono stati dati milioni di voti a un'idea che era quella di penalizzare la politica esistente, questo è stato il dato che ci è stato consegnato, perché noi diciamo e abbiamo detto dal primo momento che l'idea del cambiamento poteva essere rappresentato da noi insieme con il Movimento 5 Stelle, perché obiettivamente avevamo a che fare con delle persone, abbiamo a che fare con delle persone non costruite, genuine, con i limiti ovviamente che tutto questo implica, ma anche prive di quella retroguardia negativa dell'appesantimento politico, delle dietrologie, dei meccanismi poco chiari che in qualche caso purtroppo hanno rappresentato in maniera estremamente negativa il governo del Paese. Adesso la situazione qual è? Noi esattamente, prima sempre ascoltando la situazione di Parma, i paralleli sono evidenti, noi abbiamo il Parma a livello Italia, Parma che cosa è stata? Una città gestita malissimo dalle forze di centro-destra, ricordiamo che Parma non era gestita dal centro-sinistra, ha avuto un governo, se non ricordo, di almeno due mandati da parte del centro-destra, distruggendo le casse del Comune, mettendo il Comune con 800 milioni di debiti, una cosa diciamo da pessima città del sud, neanche Palermo è stata in queste condizioni, le ha lasciate poi corruzione, insomma una serie di questioni per cui sono anche risultati tra l'altro condannati gli amministratori, a questo punto purtroppo il Partito Democratico in quel caso non ha riuscito a risultare l'alternativa, perché questa è la ragione per cui hanno votato il Movimento 5 Stelle anche su temi, come si ricordava, di carattere ambientale, ma ora il grande tema è quello sociale, noi viviamo in una situazione mai vista in Italia, con una situazione occupazionale, con una situazione economica e poi con una recessione che sta mettendo in enorme difficoltà tutti, famiglie e imprese, alla luce di questo le scelte politiche da fare, devono essere estremamente attente, perché diceva bene adesso lo scrittore che è qui accanto a me, quando dice non possiamo permetterci di non considerare che le scelte politiche debbono avere, e anche il rappresentante del Partito Democratico di Parma, devono avere un'ottica ben precisa rispetto a quello che c'è da fare, voglio dire è una scelta politica diminuire lo stipendio dei dipendenti che prendono, diciamolo, in un comune 1200-1300 Euro al mese, questo è il reddito medio di un dipendente di un comune, allora un conto è che tu mi riduca i redditi di dirigenti che ne prendono 5, 6, 8, un conto è che tu mi riduca in maniera indifferenziata i redditi anche di quelli che fanno fatica ad arrivare a fine mese, un conto è che tu pensi di poter eliminare le auto blu piuttosto che anzi, no, è cosa positiva, è un conto che tu pensi di poter aumentare le rette dei bambini delle scuole materne, ma stiamo scherzando, è l'ultima cosa che devi fare, questo è il meccanismo di ragionamento, cioè quello che io veramente non riesco più a concepire come è possibile, è che anche i cittadini italiani che hanno votato in un certo modo, credo che insomma si rendano conto oggi della difficoltà di consegnare un mandato a persone che si rappresentano in un certo modo e poi quando salgono i gradini del municipio piuttosto che del Parlamento se lo dimenticano, se lo dimenticano e si dimenticano le promesse e le garanzie offerte Allora, facciamo l'ultimo giro di domande perché siamo quasi in chiusura, io voglio tornare un secondo solo da Nicola Si, devo anche dirti che devo tornare in Parlamento perché sono qui di fuggita Si, lo so, lo so, lo so. Allora Nicola Dall'Olio, un secondo solo volevo, c'è una domanda per te, ti senti? Si Al volo, proprio brevissimo, un portavoce, un esperto web, 20.000 euro per avere un claim è questa la lotta di Pizzarotti e le spese superflue? Cosa ci dici su questa questione? Ma guarda, ce ne sono tante, io adesso secondo me sul discorso, non è tanto un discorso di spese superflue, qualsiasi amministrazione poi attiva delle consulenze e ha bisogno anche di esperienze esterne, queste poi si possono andare a valutare, di sicuro non siamo ai livelli che c'erano prima e non credo che sia quello forse il campo vero della battaglia, il problema è che anche l'inesperienza al governo provoca poi dei costi, noi l'abbiamo visto qua con costi ben superiori, per esempio c'era un accordo che andava chiuso per realizzare la scuola dell'Europa, una grande opera che è costata 28 milioni di euro, non è stata chiusa anche qua per incapacità negoziale di stare ai tavoli e trovare delle soluzioni e poi di nuovo visto che i lavori sono stati fermati, 4 mesi dopo si chiude questo accordo però con il fermo cantiere si spendono 700 mila euro in più, più o meno lo stesso importo dell'aumento delle rette scolastiche e delle scuole materne, quindi qua c'è un problema sicuramente di passare da quelle che sono dei proclami a una proposta di governo che manca e anche una capacità amministrativa che manca, c'è competenza sul lato ambientale ma su quello per esempio dei servizi sociali c'è pochissimo, c'è una buona volontà generale, si parla di ripubblicizzazione dell'acqua ma poi vengono messe in vendita per coprire i debiti le azioni della multiutility IREN e quindi questo va nel senso contrario, quindi ci sono queste contraddizioni, noi però ci dobbiamo anche porre il problema di perché comunque hanno vinto a Parma e del perché hanno ottenuto questo risultato a livello nazionale, mi spieghi sinteticamente perché il PD non è riuscito a intercettare la delusione? Ma perché il PD non è riuscito a presentarsi come una forza di vero cambiamento, ha puntato tutto, c'è stato il percorso delle primarie, io ho partecipato alle primarie, sono arrivato secondo, si dice così anche se eravamo più di due, però in quel momento comunque il risultato è stato un risultato abbastanza significativo anche da parte dell'elettorato del PD e non si è riusciti come anche credo a livello nazionale, a livello nazionale si sono fatte tante cose, le primarie dei parlamentari si è ricambiato l'80% dei parlamentari ma di questo quasi nessuno ne ha notizia e quindi non si è puntato con decisione, con forza, anche avendo dei candidati magari che davano l'esperienza, però fare vedere che dietro c'era davvero una voglia di cambiare radicalmente, quello che a Parma volevano era discontinuità. Discontinuità, non si è dato il segno della discontinuità? No, non c'è stato, non c'è stato e questo secondo me non lo dobbiamo dare, poi visto che c'è anche la senatrice Pupato, l'ultima cosa, credo che anche sui temi della sostenibilità e dell'ambiente si è visto che si può costruire consenso e si possono perdere le elezioni, a Parma l'abbiamo perso nel cuore, in Piemonte sono state perse sulla tab, questi sono temi ormai che sono all'interno, ormai sono percepiti dall'opinione pubblica e il PD deve sapere che ha al suo interno persone che li portano avanti con coraggio, deve metterli al centro della sua agenda, crederci e pensare anche a un modello di sviluppo un po' diverso da quello che ha proposto fino adesso. Grazie, grazie Nicola, ci sentiamo, a presto, arrivederci, purtroppo la senatrice Pupato è dovuta tornare di corsa in Parlamento perché insomma sono giornate difficili, c'è un'informativa di Monti in Senato e quindi ci ha dovuto lasciare, peccato se noi avremmo chiesto della sua battaglia a Notav, è stata proprio questo fine settimana in Val di Susa. Ma invece torniamo con Federico Mello perché mi ha divertito molto un paragone che è scritto tra il Movimento 5 Stelle e l'utilizzo che si fa di Facebook in particolare, cioè c'è questa doppia realtà di come uno si vende sui social network e poi però ti trovi una persona di fronte ed è estremamente diversa da come si è venduta, diciamo dall'artificio che ha fatto di sé tramite la rete. Che impressioni ti hanno fatto i parlamentari del 5 Stelle? Ma allora mi hanno fatto, io tra l'altro sono stato un po' in transatlantico questi giorni quindi li ho visti da vicino, ci ho parlato, mi è capitato anche di pranzare con alcuni di loro, alla mensa quella per dipendenti, ecco non al ristorante. Devo dire che il giudizio medio che esprimo è sicuramente di persone animate da tanta buona volontà e sicuramente persone in grosso modo per bene. Credo che il livello medio però di elaborazione politica, di capacità di capire i problemi che ci sono, di capacità di elaborare delle proposte per mettere in pratica tutte le cose che hanno detto sia molto scarsa e molto ridotta. Anche questa poca conoscenza che hanno dei meccanismi parlamentari, di come viene formata una legge, insomma mostra un po' la corda rispetto alle promesse altisonanti che avevano fatto. E quest'idea insomma di, ho scritto appunto questo articolo, 5 Stelle è un partito con tutti i limiti di Facebook e secondo me è abbastanza, voglio dire non è solo una metafora, è anche un qualcosa di strutturale rispetto al movimento perché non dimentichiamo che il grande motore di questa forza politica è un'azienda privata che si occupa di marketing digitale soprattutto sui social network e comunque sui siti sociali come può essere un blog che è la Casa Legge Associati. Su questo sono sicuramente straordinari, sono bravissimi nella capacità di ricolare un messaggio, di renderlo sexy, di progettarlo affinché diventi virale. Finché questa cosa avviene in un contesto appunto di campagna elettorale o di alterità, esternità rispetto alla politica ha sicuramente la sua efficacia. È chiaro che quando avviene con 163 parlamentari le cose un po' cambiano e secondo me, insomma anche rispetto a quello che diceva il consigliere democratico di Parma, sicuramente adesso le persone cominceranno anche a chiedere conto ai 5 Stelle di quello che fanno e di quello che non fanno e loro sinora si sono avvantaggiati del fatto di essere effettivamente nuovi, effettivamente fuori dai giochi, di poter screditare la classe politica in virtù di una loro estranetà. È chiaro che adesso che invece sono con le mani e con i piedi dentro e il discorso cambia, secondo me se non si danno una mossa ci metteranno poco a perdere tutto il consenso accumulato. Lo stesso partito citato spesso dell'uomo qualunque di Giannini negli anni 50, negli anni 40 durò due anni e insomma ebbe risultati non di questo livello ma simili. Il problema è un'eventuale crisi dei 5 Stelle a livello elettorale, a livello di consensi, a livello di immagine e il Partito Democratico però deve contrapporre una figura, un'immagine di cambiamento, di rinnovo. Sicuramente dei passi li sta facendo in questi giorni, sicuramente la spinta dei 5 Stelle se non riuscirà a cambiare il Paese da un punto di vista legislativo culturalmente ha il posto dei temi che interessano tante persone e che il PD sta facendo solo. Gli ha tirati fuori, forse meglio, perché tanti temi già c'erano, facciamo anche questo. Sicuramente già c'erano e oggettivamente va riconosciuto anche il fatto che negli ultimi cinque anni il Partito Democratico, comunque il centrosinistra è stato all'opposizione, quindi quando li vengono attribuite, c'è stato un anno drammatico di appoggio a Monti, però quando li vengono attribuite tante cose non fatte, la legge elettorale, il conflitto di interessi, misure per i diritti civili, peraltro, parliamo sempre di un Parlamento a maggioranza azzurra. Diciamo che negli ultimi vent'anni abbiamo governato Berlusconi, quindi va bene. C'è una domanda che ci arriva da Twitter, quali sono le sue considerazioni sul caso del silenzio dei portavoci del 5 Stelle, lo chiediamo a un comunicatore come te. Secondo me, ritorniamo alla stessa metafora di Facebook, tutti noi su Facebook mettiamo una foto in cui risultiamo più belli, in cui risultiamo più popolari, in situazioni cool, come dicono i giovani. Poi ognuno è una nostra vita, magari è un po' diverso dall'immagine un po' posticcia che ci costruiamo di Facebook. E questa cosa della comunicazione mi sembra uguale, sembrava una grande novità, una grande rivoluzione, la professionalizzazione della comunicazione politica nelle istituzioni e poi alla prima uscita tutti e due i comunicatori, insomma, che devono fare? Si scontrano con la stampa e cadono in silenzio. È abbastanza ridicolo come atteggiamento. Vabbè, vogliono mandare a casa anche i giornalisti oltre questo. Esatto, però il tema serie è un altro, secondo me, visto che queste strutture di comunicazioni erano previste nell'impegno fatto firmare da Grillo ai parlamentari che si sarebbero candidati. Secondo me c'è scarsissima trasparenza rispetto a questa struttura, la stanno mettendo in piedi, ma la domanda da cuore è molto semplice, ma a me sembra in tutto e per tutto una succursale della Casa Legge Associati a Roma pagata con i soldi pubblici. Cioè è una follia, o è una struttura tecnica e allora non si capisce perché tutti i fondi che servono al gruppo parlamentare vengono destinati a questa cosa. Se è una cosa tecnica paghi un co-co-co, per quanto puoi dare a un consulente 5 mila euro al mese, prezzi da casa, dai 5 mila euro al mese e ti fa la comunicazione. Invece qua parliamo di una struttura con bilanci importanti, almeno rispetto ai soldi che riceveranno. E noi gli dobbiamo pagare la propaganda a Casa Legge con i soldi pubblici. Sì, anche perché poi questo parlo dei portavoci, se vogliamo, è una ripetizione, ci sono due capigruppo che dovrebbero parlare. E' vero che su questo i deputati e senatori democratici, ma come quelli di tutti gli altri partiti, facciano chiarezza perché poi erano gli strumenti delle interrogazioni, delle interpellanze. Però se fosse così, che tutto questo, se mi permettete di tenere, casino è stato fatto per fargli aprire la succursale a Casa Legge pagata da noi a Roma, beh ragazzi qua siamo oltre il ridicolo, siamo proprio nella farsa. Grazie, grazie a Federico Mello e il lato scuro delle stelle. Allora Magazine torna tra una settimana, grazie per averci seguito.